Sono Tommaso Pesci, vengo da Massa Marittima, oggi abbiamo giocato a Collonia contro Collonia, abbiamo vinto 29-27 e rispetto al ritiro scorso siamo migliorati e l'abbiamo visto sia oggi che ieri che abbiamo vinto anche contro il Tavernelle per 33-27. Penso che questa sia un'iniziativa molto bella e serve anche molto per crescere ai ragazzi. Grazie